Se hai appato Se hai appato a dovere puoi andare Un pochino, un pochino Avete visto il link ho messo su Italia Che non puoi vedere la diretta? Io arrivo Ma tanto ormai sulla home di Cosa c'è tutto Eh ma è su YouTube questo È sempre strano Su YouTube Italiano Io lo vedo su... Ah perché c'è il sottotitolato? Sì Di solito lo sottotitolano in diretto Dovessimo perderci l'ennesimo rinvio di Pogba Vediamo dove lo vogliamo vedere Lo vediamo tutti quanti in una parte Per me YouTube Italiano va bene Ah noi vediamo nulla Perché è quello che sarà trasmettendo Matteo Beh in caso si può anche cambiare Si... si sa quanto manca? Tre minuti e mezzo Angio faccio pure la cacca A te mancano tre minuti però no? No tre minuti è riuscita Tre minuti sono tre minuti E' una fisa Andate accendiamo così nel caso non mi perdo proprio niente Dal vivo Tre minuti e dieci Mi fa venire angoscia Tanto parte subito questo? E' una botta No per l'angoscia Per capire se siamo sincronizzati Sincronizzate gli orologi Un gesto sfinterico di quelli catenti Sincronizzate gli angoscia Un gesto sfinterico E cos'è questa? Non l'ho colta No doctor Non la fa la cacca Sfintero Sfintero si ma serve per quelle cose Sì Non capivo Pensavo fosse collegato a Nintendo Sfinteri Girati 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 Ma quindi faranno vedere il gioco spaziale pure qua? Oppure fanno finta di niente? Speriamo di no Speriamo di no Speriamo di no Smash Quello si che non vedo l'ora rivederlo Non vedo l'ora Due minuti Tu ti pensi? Io non è che abbia grande aspettativa per questa conferenza Metroid cazzo Metroid 3DS Eh ma l'anno scorso hanno fatto vedere un logo Non ho grandi speranze per Metroid Come no? Cazzo Matte Speriamo di sì invece Perché se dopo un logo questa non mi fa vedere niente Ti vengo a prendere a casa Si parla di Wolfenstein Youngblood Vabbè ormai sono diventati amici come test Faranno vedere fallout E' già uscito Sperarebbe anche Bayonetta 3 Un'altra 3 house durerà tre giorni Un gestante 3 house Che c'è? 45 secondi 3 house Non ero pronto Bru Il mondo non è ancora pronto Io sto a 36 35 306 Cover finta disegnata male PS4 Con scritto Cinematic Four Person Over the Shoulder Action Game Ormai è il marchio di fabbrica di Sony Tanto mi sa che questo dura mezz'ora Veramente? Durà 10 minuti 10 secondi Adesso le 3 inizia davvero Esatto Ah è bello che Oh inizio Peghi 18 Peghi 18 Quindi ci sarà Bayonetta Per me Sì Questo Armored Core Il gioco di Front Software Cioè no Non è Armored Core Eh Ma per dire Non attaccarti alle cose Eh ma insomma Però Non è che ci siamo così lontani però Eh no Ah appunto In chat chiedono a Simo se c'è Spyro Virtualon Ragazzo Virtualon Cosa chiamava Virtualon? Bruno aiutami Eh qua dice Demon Demon X Qua dove? Demon X Mazzato la traccia è normale Senti che traccia La battaglia dei frigoriferi di Roma Ricordo a Zone of the Ender Sai un pochino Ecco la cosa che ha fatto Ragazzi Virtualon Virtualon Che va sul braccio Per Trisca Per Trisca Per Trisca Vabbè le influenze Tutte le imbluenze Sembra che devo giocare Eh devo andare in macchina si chiama Così Abbiamo iniziato Tsukuda Nen Housin Nen Tancin Ah beh abbiamo iniziato con una cosa nuova Eh già Per il 3.000 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 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 9.000 9.000 Oh, non c'è l'RPG, ragazzi. Quindi è Arsenal Blade nuovo? No, credo che sia il DLC per Arsenal Blade 2. Sono anche alcuni dei personaggi sugli stessi. È il simulatori di giochi? Eh sì. Ma è vera questa cosa, Bruno, che i doppiatori sono tipo 10. In Giappone doppiano qualsiasi cosa. Boh, è vero. Perché hanno doppi le stesse voci. In effetti sì, gli altri prodotti è lo stesso. Non so chi me lo diceva. Chi? Sto cazzo. Sto cazzo, cosa che i doppiatori sono... ...fogli. Eh, bisogna vedere. Non mi ricordo, che bravo che però. Ah, poi è anche perché le voci tendono un po' a assomigliarsi. Infatti è anche la doppiatrice di Goku, Uri Dragon Ball, che diceva... ...ah, sto per i primi anni, mi fa tutto la stessa roba. Ma gli sai, ma lo era va cotto? Eh sì, no. Eccolo! Ciao, ciao, Reggie! Ciao! La maglietta da Asombe sotto la giacca. Sto facendo il lavaggio come cosa. Michael Jackson. Il prossimo anno direi, sembra John Goodman. Guarda Game Boy. Sì, sì, certo, al mare io mi metto con lo Switch. Smashing, sentire i messaggi subliminali. Voglio fare anche qui. E Pokémon. E Pokémon. Eh sì, è super negro. Ma lui dovrebbe essere come Obama. Hawaii. Sì, no, è punto. Non è neanche africano. Eccolo! Non è manco negro veramente, capisci? È negro di discount. Non è manco negro vero, non c'è pure il cazzo dico. Un'araccia. Sì, pensa se ti sbagli e ci le robe. Come se non avessero già fanno. Reggie ha sbattuto fortissimo su uno spingolo. Quanto è bella però. No, no, no. Non è che non c'è un papo sessuale. Per fortuna è registrato. È vero, Bruno. Preta pure il rumore. Come mio? C'è mio? La mia sorella ma la sua compra subito allora. Dove preferire il rumore? No, perché c'è mio. Guarda, se ne trova una rutta come porta-chiavi. Beh. Però c'ha le buone grandi, quindi c'ha il cazzo enorme. Guarda, la fede l'hanno dovuta fare spesso. Ok, sei pronti per questo? La fede ha fatto un tondino dell'idrario. Esatto. Ah, questo è gioco a sexy. Oh no. Ah, Mario Party. In effetti se era slano non se l'ha ancora visto. Ragazzi, guardate quanto si è sbiancato Richard H.T. C'è? Party, ragazzi. Sì. No, Mario Party, ragazzi. Mischiando le Switch. Mario Party è una cosa che facevano gli indie, tipo nel 2005. Ti ricordi quella roba che aveva comprato Ferruccio, raccontava i cubetti che si attaccavano? Eh, non lo so. Ragazzi, ma le parti è spettacolati. I primi due sono sprevidosi. Poi dopo... Veloce verso l'interno. Ah, capito? La coppia bianca con l'amica la coppia nera. Ma avrà sbiancato le luci R.P.K.? A parte che vuoi tu R.P.K. con sto Nick, HTT, R.P.K.? Questi si giocano la meta Mario Party. Osa, osa. Per chi non ci abbia mai giocato, un reparti è strepidoso, ragazzi. Beh, sarebbe bella la cosa forma, che poi chi vince si mangia la febbra con la... Questa con le biciclettine è meravigliosa. O un crepicato magari ha cambiato le luci e non credo di essere sbiancato come la grandeggina, tipo la macchina. O forse le aveva sempre scurite prima. La verità sono... Un altro C.R.P.G., ragazzi. Ma mi sa che F a emblem? Bello sta bene. Mamma mia, guarda che... Che belli i disegni. Sì. Dove sta? Si chiama proprio Treehouse. Lo stream si sta facendo troppo sei. che bello guardalo ed è venuta in quelli del 3ds no no questo è il parembra in classe non è lo streaming anche a voi stanno andando un po rallentato sono bellissimi giochi con combattimento a turni però l'aspetto è bello mi sembra anche a me che sia un po troppo per switch rallenta tanto però è figo però si è proprio bello c'è mi ricordo il trailer le musiche più moderne le fanno i giapponesi teppo picco ma non ci sono solo violentati ma tutte le razze di fare tutti i target che bella chi è il numero 6 sopra primavera 2019 ea voglia da passata questo tipo è arrivato fortnite no veramente eh sì ancora si sapeva e doveva uscire lo stesso trailer di mi piace che devono mettere il gioco online di chi dà una connessione di internet ah ma sono sempre quelli di prima che hanno scambiato le coppie ah adesso io a vederlo adesso capisco che ti stai appassionando che brutto ma te lo compri anche per switch adesso è gratis è gratis è gratis insomma vabbè alessio stasera lo proviamo vieni reghi vieni io ti faccio mettere io ti faccio mettere comunque quattro bombette dalle 23 di oggi caccezza bravo quattro bombetti e boom si giocheranno attaccandosi al wifi del bambino qualcuno ha detto un monster hunter si pinta si pinta in chat Antonio ha scritto Alessio mani sul tavolo dove possiamo vederli perfetti dalle 23 quando i bambini non è ho qualche titolo indie si pinta si pinta no Stanno le istruzioni sopra di più medicinari. Di salvare il mondo da quale lavora caccia, il frantic food juggler di 1927 arriva a 7 agosto. Gli spogliati, freddi le varie, o scupe la quina del diritto per accettare la victoria, in Killer Queen Black. Raidezzando dal punto, Liquid Bit e Bumble Bear Games' acclaimed arcade extravaganza che diventò un fenomeno di multiplayer, è venuto a Switch. Eh ma Fjord mi sa che ci sta anche su PC in queste robe No, veramente, Anto, c'è anche Nirvana e Byron, stanno a dire Grandi! Questo per Switch è perfetto Guarda, non ci pensi in atto Non l'hai finito, Simo? No! E ne te lo recuperarei su Switch, no? No! Mi rimetteremo ieri sempre Beh, tu ci metti sul divano così o al bagno, il letto è perfetto Ah, ok! Porca droga! Stanno asfaltando tutto Fare sempre cose... No, le sfide sono triste Quello con il cappello qui mi sono, non l'esperto Va fan Eccolo Ecco qua Dai! Cioè adesso è... Oh, 13 luglio, sì! Eh vabbè! Se si era già visto la conferenza degli Square, l'avevano già detto Adrenaline da Live, troppi attrazzamenti per questa buffonata Mirko sta lanciato E poi Mirko vuol dire che è tutto bellissimo Starlink con la confassata di Star Fox Ah, capito Ah! Tencent Games Manclass Ma non è già uscito mai Ma non è già uscito mai È già uscito ma c'erano gli aggiornamenti e è uscito da Star Fox No, esce di nuovo Esce di nuovo Sì Te lo tengono a prendere, te lo tolgono e te lo di installare Ah, Just Dance, la Switch Vabbè, immancabile Sapete che Just Dance esce anche per lui? Così Nei... E' come PlayStation 2 che ci ha messo gli anni per morire perché continuano a scettare FFS Ciao, un risultato Sì, Motoplato preferito Cos'è Ninjala? Ninjala? Mi ricorda leggerissimamente qualcosa Carcassone No, no, l'abbiamo fatto vedere due secondi fino a 18 Carcassone Si vergognano tantissimo di Carcassone Ma veramente è passato Dragon Ball FighterZ? Ma ancora ho visto? Sì, sì Moserante, Moserante! Qua si sbatti le scelte World of Saiyan 2, cazzo! Questo è vero World of Saiyan 2, bello che torni Mega Man Mario Tennis fra un poco esce Mid-Viner Pirate se potremmo fare un passaggio ora Che cazzo Ah, che bello, ciao! Ciao! C'è un'espressione che si capisce se è incazzato Si sta prendendo per il culo e quanti Si sta per ucciderti E l'espressione così Eh, si chiuderemo fuori Oh, no, no C'è un'espressione che si è incazzata C'è un'espressione che si è incazzato E ci vedi E ci vedi Di un certo titolo C'è un altro titolo E' un certo titolo E' un certo titolo Vediamo che Io penso che conosciamo già Qui sarà Via! Maaaaaamma Questa è l'espressione 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 E' invecchiato tantissimo Sakurai E' presso questi giochi, poverino Ma no, non è trombasci Mamma mia che bello Tutto qui Ti prego, voglio la sorpresa nel roster Ti prego, voglio la sorpresa nel roster Ti prego C'è una cosa che vogliono fare Il saluto romano Perché loro sono un paese fascista Però dovevano fare quella cosa di Attenzione Attenzione Il momento è drammatico Già è amore però Mi fai dire il tubo Vabbè Eh simone Ah ciao Samus Morfosfera E Kirby chiaramente Ho capito sti nove Cioè vanno ok 3, 5, 18 Eh te li presentano con l'ordine di apparizione nella serie Di Smash Che adesso Niente di nuovo No, questi sono i classici Ma li mettono alla fine Eh beh Ma Zelda c'ha il costume di Link to the Past Ti prego Dimmi che lo fanno Oh bene, torna Mewtwo Oh Grande Sonic ormai è fisso Ecco perché vende solo su Smash Bros Sì Oh guarda che il costume di Zelda mi dà da sperare eh Frink and Frink Qua E Screamers Che non c'erano in quello vecchio Ah beh Inkling Sì Peppo Smash Bros Un picchiaduro E prele picchiaduro Fiorgo Non agire neanche per scherzo che come stanno là Quella Quella Ganondorf Ehm 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 Dai torna Snake Eh vabbè sì Ci siamo voi dopo Raichu no No Raichu Come si chiama? Pi-chu 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 Ma che bello torna Snake Sono le musiche di metallia di nuovo Lucario Lucina Ehm Ehm Daren Che sono due Maionetta Maionetta Dottor Mario Guarda Bob Che bello Figaro Tutti 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 Pagano Rosa Linda Sono tantissimi Pagano Ehm 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 Megaman. Tutti i nostri eroi. La gente sotto in chat mi adoro. Little Magda. No, si è mangiato Mario. Luigi. Scritto Mirko. 21 è che il numero è. Sì. Eh, ma? Boom. Tutti, 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 tutti. Eh, ma poi? Chi altro neppete? Mica. Siamo già che ci sono tutti. Sì. 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 Dai, un po'. Quelli nuovi, niente. Ci devi spiegare uno a uno. Sì. 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 Hai sentito? Ho proprio due persone diverse Dai Che bello Sì, atta, è solo un trigger Eh? La mia famiglia di Pikachu dovrebbe essere un trigger La mia famiglia dovrebbe essere un trigger È vero questa cosa Fingascio Maskeffinger E quello del cappone Maskeffinger Do? L'ho fatto vedere Hanno fatto vedere 100.000 giochi di due secondi Questa è stata la stessa Che bello, Snake, torna Che bello 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 Abitante, cattivissimo abitante. Guarda quanto cazzo è incazzato un po' Che figo questo No, che figo questo è uno scenario Ma che bello La finiamo di stranzare su Smash, Simone? Sì, sì, no, non c'è il programma Le idee sono bellissime Non ha senso far battere Che sono Però Alla Sì, Fionco, secondo me lo farò vedere Perfetto Questa è una cosa che vuole Questa è un po' Che è un po' Un po' direttore 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 secondo voi la switch vederà ancora di tutto questo, che bello hanno fatto canon dopo l'aspetto di ocarina of time, tra pokemon e questo è scritto Mirko, dite se ripartono da capo che mi sono persi a 14 beats io mi sono rotto il cazzo 10 minuti fa che fri che fri è capito e no che è successo? i personaggi principali sono di pikmin più figa bayonetta di Samoth però no figa Samoth eeeh non lo so anche qui c'erano gli effetti sono diversi fascistofigates qui altre due ore per i messaggi nuovi grande il re dei ritardati idolo idolo basta non è scusa c'è anche l'allenatrice di win beat il visa più guai è è la base della sua prima Ah, che cosa più bella Ah, come si trova? Ah, come si trova, va bene Ah, come si trova? Ah, come si trova? Ah, come si trova? Ah, come si trova? Cioè hanno fatto vedere lui per dire che ha l'indicatore in testa Capito Ah ecco sta spiegando perché Sta la hit Questo sta superando quando facciamo vedere abbiamo venduto la console Momento 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 Daisy Ah 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 P.I.C. 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 non l'ho capito è proprio traumatizzati questa cosa quando ho fatto la recensione di franchesi ho fatto dei dranni proprio con quella cosa lì c'è l'anarchia ma c'è se sono le meccaniche di splatoon in smash delirio ogni personaggio c'ha le sue cose speciali c'è il bilanciamento ma no il bello è che è bilanciatissimo c'è un delirio con qualunque personaggio puoi diventare un'arma da guerra con qualunque personaggio non la vinci questa guerra ti dirà sempre che rispetto a te che nemmeno curato come critica il figlio cioè l'anarchia veramente assistente beh una bella mezz'ora sugli assistenti che non la facciamo sta diventato un po' troppo eh lo dico anch'io ma era un po' troppo già dopo che hanno fatto il titolo ho la sensazione che di te lo stia puntando pesantemente e su questo gioco si fa e che non avete bisogno no bella boh 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 adesso bisogna ve la nonna un po' troppo spazio e per chi ha detto scopera suok pó ha perso personaggio ma poi che stiamo ballando in fila grande sono i pokemon nuovi maxi stella è quella di mario galaxy e mirko non scrive più secondo me stai schiumando la stagione la versione la stagione la stagione dai queste scene abbiamo messo le texture nuove guardate con l'emulatore c'è la musica tronzi madonna di me lì mamma mia che bella è da più riuscito di sempre è però come arena è ottima google di metrò il prime e noi staremo aspettando dobbiamo vedere questa cosa imbarazzata ricordate quello che provo a fare sui passaggi sono tratto se è andato bene le station all stars battle royale nel nome sarebbe il momento giusto quindi stanno ammettendo condimenti che hanno rimaneggiato il gioco vecchio no guarda il meglio che era quello che gli si chiedeva perché smash era uscito così perfetto nella versione cui gli utri ds che non è che dovevano fare granché altro non rispondere lo che hanno detto hanno migliorato il bilanciamento di alcune cose alcune mosse come fontana quando vanno questo è maggiore ma dove sta maggiore scusa prima non finirà mai e quindi no ci hanno messo le mani pesantemente per inserire una maggiore scelto schigao che c'è la schifata di cica e pezzo a bruno pensa che brainstorming e votan plus jump votando questo che c'entra con questo sarebbe maggiore cosa che cosa di maggiore scusa è la zona degli zora che ci stava il ricercatore subacqueo e mi gara così l'ha entrata si ah adesso è fermo adesso si si è fermo qui c'è il daco moment anche in smash cross questa comunque è una cosa molto giapponese di fare questi trailer di oreo no le follie erano partiti bene poi si sono incagliati su smash si si perché hanno fatto tutti tre lo sapete che se adesso se adesso finisce salutano io spacco il riso a calci altre novità basta guardate ho cambiato la camicia rispetto alla camicia che usavo in no il padre del gamecube è la perfezione sui ciotto gamecube controller ragazzi che si comunque guadagnano su roba di vent'anni fa ma va simo davvero no ma non solo sui giochi c'è stanno messi in conciutto e ci mancherebbe gli amiibo non erano compatibili dopo che abbiamo dato un rene inizio l'ho fatto solo per questo amico figure flayer fp un fc per pagare al mcdonald c'è ancora le etichette di dire col pad un po' più un po' più un po' più un po' più sì un po' più ma l'è scuola ci fai chiudere il canale che ho detto? ho detto sì, porco pio no no ok ok ecco qua ci ascoltiamo attentamente se si senta molto diverso ci vuoi? c'è Sì, è sempre Smash Sì, è sempre Smash Sì, è sempre Smash Sì, ma davanti c'è Il matro della storia Sono avanzato così cruento Povero Megaman, c'è Ridley Scott? Beh, sì, l'omaggio è a lui ovviamente Il suo regista di Alien Che è Metroid e si ispira ad Alien Ma Ridley è il più bistrellone Il dotterodattilo nemico di Samus E invece è proprio Alien Eh sì, è Ridley E' uno di noi personale Ma mica te lo fanno usare Come no? Ah, l'hanno proprio messa con un nuovo personaggio? Eh sì E adesso un altro quarto d'ora su tutte le cose nuove che può fare Grande Si mettono anche il Mega Predator Minchia, ti immagini? Il Mega Smash Bros sarebbe Ce la facciamo a toglierci questo canchero? Ma Mario è ancora vivo, massivo Disponibile Adesso 7 dicembre Adesso Sei troppo avanti adesso Non mi so Non è finita Non è tornato indietro addirittura Davanti Ma com'è finito? No, vabbè Ma davvero? Vabbè Vediamo un po' se vediamo in entry house Se vediamo nel entry house fanno le porte Vabbè Sì, Mirko, sono già finiti tutti i personaggi Ma do, è imbarazzante No, dai, imbarazzante Non possono fare tre quarti d'ora su Smash Che va bene, va benissimo E finire così Comunque me trovi di nuovo Questo è quello che ti meriti, Alessio Lancia la puttana Questo è proprio quello che ti meriti Ma quindi c'è qua il tree house? Sì, nel tree house A partire da Che meraviglia Sono tutto un frame Fanno vedere ancora Smash Dai, dai Mi sa se durante tre house faranno vedere finalmente Smash Che merda, oh Io sono stato pure a casa Perchè parli in cinese? Perchè parli in cinese? Sì, so che c'era probabilmente un po' di Smash digest Ah, se ne rendono conto anche loro che c'era un sacco di Smash di giurie Ma siamo molto fortunati di avere un live Mr. Sakurai qui con noi Ah, è ancora Smash Ragazzi, vediamo un po' di Smash Il tizio con gli occhiali faceva l'asilo quando è cominciato lo stream Vergogna assoluta Vergogna assoluta Vergogna assoluta Ma abbiamo detto di Smash Che non è mai parlare No, non è mai parlato Che abbiamo lavorato molto duramente E che siamo finalmente potrebbero annunciare questo game Ok, non è mai parlato Quindi ora, adesso Non è mai parlato Ma da, ma da Oh ragazzi, comunque domani sera puntata Giusto? Ci siamo tutti, Simona Domani sera? Eh Ah, vabbè Ok No, non ti sento con via Sì, sì domani 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 sera puntatone di più buone la conclusione del 21 il trentone dici so am il video il video il video il video il video è un po' secco si augura il video spero che il video il video il video sicuramente dici che magari è proprio la mensa di nintendo che fa qualcosa che non va il video il nero l'hanno messo là solo per annullire esatto Mirko perché non sali a fare un commento a voce sei a telefono sei a telefono il video il video il video il video ma veramente lo stanno facendo rivedere ah stanno facendo vedere le arene chiaramente a fare un'altra ma salire al telefono no? so i'm just gonna do an explanation so let's just go to final destination all right and this final destination is actually a special version of final destination that is gonna be slightly different from the version that's in the full game correct? adesso Shutenga eh Mirko tu ci sei domani sera dici in chat dici in chat dici conferma ah that's correct and that was a bit of a change right there that we picked the stage before the characters e e e guarda le mozzette che fa Mario e 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 è stato molto difficile da capire il gioco in un gioco adesso stanno nella fase che devono provare l'emosso grazie a Outhis che si è iscritto ieri sera al canale qui perchè è N8 la? non so che è tipo la variante N8 di Mario perché ce ne stanno 8 poi in Smash Bros se non ho capito male perdi quando ti mandano fuori dal ring giusto? si hai una percentuale di danno più è alta la percentuale più quando ti danno un colpo forte viene sbalzato lontano a un certo punto è così forte che automaticamente viene buttato fuori quindi non c'è il... come si chiama? si Fjord, Peppo, pensavamo di farlo appuntato direttamente domani in effetti lo dobbiamo fare direttamente domenica eh allora state sentite... ah per me va bene domenica va benissimo domenica eh sono già le carte pronte dei miei avvocati però mi ha fatto vedere sta roba madonna c'è non si può non si è fuoco eh, non si è questo di persona cioè io cosa ho fatto di male per meritarmi questo? ditemi maestro ma lo sai quali personaggi ci sono in Smash Bros? eh aspetta mi sono perso il 28 barra P e poi chi è che c'era? madonna ragazzi non si può, non si può, bellissimo, è bellissimo c'è nintendo ha vinto l'e3 però è tutto bellissimo e si sia questa roba ma non si può, non si può veramente madonna che imbarato Mirko oh no facciamo domenica la puntata domenica o mercoledì o domai volevi fare? possiamo fare pure domenica, per me possiamo anche domenica però ah come volete, per me è uguale entrambi i giorni, come volete voi tu adesso che dici? va bene anche domenica allora ragazzi come non ho detto la prossima puntata domenica questa speciale Smash Bros avrete il nostro con me passeremo in rassegno a tutti i personaggi 1 a 1 lo farà simone naturalmente con la storia di ogni personaggio e l'elenco delle mosse lette in diretta tipo bastone e faremo anche il momento Sarabanda riconosci la voce diversissima tra le due versioni dei personaggi si hai visto? questo è magico questo è magico si che infatti pure in tecno il doppiatore degli acce è morto però quello nuovo è quello stesso come tupac gli hanno fatto registrare delle cose off the record ah è arrivato per giocare basso il mio ah no parlate sembra bene non mi sembra che si parla di essere morto ma non vediamo cosa succede vediamo cosa succede io quattro ore madonna a me ma beati testi maesevo stamattina no io hai bestemmiato tipo sono ancora vivi eh no 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 poi ormai lo conosco per nome però perché sai ci viene da una volta al mese secondo me ormai o viene per sapere se ci sono a casa o per sbagliarla quando non ci sono che abbiamo bisogno di essere morti ma pure io ho una copia di signori anziani che viviamo la mia si signorità si si lascia nella cassetta della posta oggi ora sto lavorando anche il cuore della notte ma sta ancora lavorando lo prego signor Barbera lavoratune ancora cinque vite ma perché c'è chi ne è che è più forte c'è una di più e chi è più debole no io super amico mi scrive su ma niente metroid niente baionetta niente niente ma devono morire un attimo dopo ma parte c'è stato altro mario parto di me che si chiamava demonex macchina che per interno del coro ai virtualon si è un brava la transformers sotto steroidi beh allora bomba a un certo punto si vedeva ai robot che saliva sul braccio di un robot di un mega robot la sua volta saliva sul braccio di un mega 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 predator secondo voi quando ci hanno messo per fare un gioco così un giorno un'ora una settimana cosa è anche voi instagram funziona male vediamo ci vediamo anche le mie favorite non c'è l'instagram di free playing vero adesso l'ho acceso la prima foto che becco giuseppe penso che non ci sia altro da vedere bisogna anche circolare circolare ma l'altra volta invece lo vede qualcosa dopo vogliamo dare parte per vedere metroid per 10 e vediamo se magari stavolta invece col cazzo e mi sa che fanno quattro giorni di smash bro c'è un personaggio nuovo in smash bro ma io comunque volevo sapere c'è anche l'assistente comunque mi sto vedendo tutti i post su instagram che non mi devo guardare tanto tempo c'è il nostro amico sepp che posta le foto del maestro dei cinque picchi e poi del zodiaco e in effetti una volta che ho scrollato in basso in basso è uscita la cosa che sta caricando ma vedevi caricati anni che non l'ho per cui instagram è nuovo facebook diritto così così dichiarazioni forti considerate che dopo il tree house fanno vedere smash no volevo cliccato su una per vedere le foto su e pop e invece è uscita da storie con la roba che si mangia una storia di alessio storia della vita perché si è messo la foto di fantoni ma come come è il tuo corpo adesso adesso dopo essere stato stuprato per felice molto felice ah ma non era la tua sono proprio le foto della storia di fantoni non c'era ancora la storia di alessio facebook tra ventenni inferiori è davvero morto ormai un social per 25 30 anni tra l'altro la foto di giuseppe con l'apple watch su prima evidenza perché una c'è la maglia dei fantastici 4 perché no ha il logo di smash bros identico al logo dei fantastici 4 è molto simile si manca la stanghetta c'è anche la mappa che si chiama final destination arrivano i tronchi si si hanno fatto le mappe tipo col seo hanno fatto la mappa battlefield e quindi c'è 60 personaggi stano 60 64 64 64 ricordi meno male che ne conosco manco la metà e vuoi farvi un regalo che ci regalo oh che è successo ma sta bene l'hanno fatto vedere l'ho fatto l'ho scritto square remix a posti film e non posso mettere il vivo voce con discord sul telefono si dovresti in basso a destra c'è l'icona che ti fa scegliere la fun ah ok può fare un po' ehi ehi però così sentirete un ritorno pazzesco immagino no no almeno riesco anche no 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 simon non guarderò che cosa è molto bello molto bello adesso instagram sta cagliato pure a me è molto bello molto bello e allora ma è colpa di cosa oh no è colpa di scuola no 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 campeonato come il mondo ma fabio che vino ha fatto questi giorni che non si è mai visto ma è la ten lavora la fa l'amora alla mora questa cosa che la gente lavora io non ci credo più l'unico giorno su è lunedì lunedì sera la libera uscita l'ora d'aria ecco E si è sbagliato molto difficile alle otto e mezza ero in piedi e ho dormito 40 minuti alle quattro è vero che più di una volta gli all'unico ragazzi che non mi venivano le parole gli ho detto per favore chiamate l'ambulanza e dite che è un Ictus perché ci ho pensato seriamente Gannendorf ha solo un po' di sparkle? è questa mia immaginazione? credo che sia perché ho stato distrutto io penso che è molto giusto quindi è vero ah non è vero è vero abbiamo un buon manzo in questo oh, perché mi sono arrivati in questo? oh, no nonni nonni sarebbe bello se adesso arrivassero i cattivi di Ken a uccidere tutti l'unica cosa svolta interessante per prendere anche perché non se ne riesce a uscire da sta non ci fanno vedere niente cioè intanto sai quanta gente non avrai bisogno di altri videogiochi all'inforzo comunque stanno continuando a uscire altri trailer ne intendo in generale no no su quel sito che ci ha dato mattina l'altra sera i tre richiede ci sono dei trailer e di video che voglio me li so persi adesso chiedi troppo si è non era un pochettino che questo è uscito appunto tutto il video del direct se qualcuno volesse rivedere la spiegazione io mi volevo rivedere la diretta di gm di ubisoft perché ho visto che hanno fatto dove hanno fatto vedere proprio i personaggi noi di foro invece molto carini recap che ha fatto vita di 3 che adesso che non mi ricordo qual è l'ispirazione però mi sembra qualche trasmissione direi due bravo e senato per farli poi in cinque minuti infatti c'è a sapere vita potevi farli usci prima delle conferenze così che risparmiavi tipo solhorn ghost giant niente non se ne esce ma non ci sarà altro tre giorni scusate switch morto fino a 2019 c'è più niente e beh c'è pochè ma c'è stata una botto di indi tutti interessanti però c'è un botto di indi lasciamo perdere bello la stasera brutto hanno fatto un montaggio che hanno fatto vedere 100 giochi in 10 secondi e poi hanno fatto di dare smash bros in 10 ore a david hater è tornato sostegno grande non l'hanno più voluto a quello che era quello che ha fatto l'ultimo cosa nord sempre lui tanto due che non è cosa ragazzi è il doppio d'ore è quello che ha fatto 24 e cater salsa forse abbiamo finito e non cosa di bar ma prima di che andiamo via facciamo dire bene scusate mi chiamo cos'è che mi fa sì ma no dica adesso che hanno posato il pad stanno per salutare dicono ma prima di andare via facciamo rivedere bene questa scena abbiamo fatto a toglierci ai coglioni vedere qualcos'altro che sta prendendo la specie guarda i amici alessio tieniti adesso non parla più giustamente ha avuto un hit course è andato a fare preorder comunque se tre quest'anno insomma nintendo era meglio che non partecipava proprio rivediamo se dopo sta cosa non vede qualcos'altro ho bisogno vedere quanto ne parla ma che voglio degli amici 45 minuti di miyamoto vestito da yoshi che va in giro a cagare uova sarebbe stato più soddisfacente di sto driver ah mi spiegate sto octopat perché siete tutti arrabbati beh molto bello molto molto si però non so se hai visto lo stile che è fatto in due è fatto con le sprite della roba il bit però è fatto con cioè in profondità tipo quinte di teatro sono cioè se guardi graficamente è proprio bello 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 però è nero quindi da giocare mulato mario parti è molto molto bello però voglio dire ti presenti queste due cose la mettete le mani addosso c'è i metroidi ai video 30 secondi avete qualcosa solo per far vedere che c'è c'è un baionetta 3 c'è non morirò se che vabbè hanno fatto vedere l'altro dai cazzo no che rifanno no basta ma perché è ripartito un'altra volta ci sono rimessi a menaccio io non ho parole veramente beh addirittura su amazon hanno messo death stranding preordine ma vaffanculo non ce l'ho data data riuscita no ci hanno messo quelle provvisore 31 dicembre 2020 non è giocato sì l'ho stra giocato infatti quasi quasi una parte ma barazzante stanno rigiocando vediamo che dice cazzi rai quindi potete successo no so in the past we've made it so all the zelda related characters are all from the same series but this time we've spread it out so i picked out what i really liked Come lo trovo Katsirai? Ecco quello qua, ex CEO Katsirai. Reghi, ci deve essere qualcosa che puoi dire su Smash Bros, ancora abbiamo 10 minuti da riempire, abbiamo cambiato la faccia dell'allenato di Wii, l'hanno fatto vedere Cloud che carica la special, e dice questa è la cosa più vicina che vedrete, è la cosa più vicina a una fantasy 3s che vedrete da così di 5 anni. Ok, dai. Ok, dai. Ok, dai. Ok, dai. Oh, thank you so. Ok, dai. Ok, io ce, è il' come l'Alla. Ok, io ero, che vedi c'è il numero di carta. e come ho parlato, quando i caratteri sono dipintati da Inklings Inc. si prendono più damage, quindi bisogna stare a guardare. Ragazzi mettiamo una regola, come siamo arrivati riguardo alla situazione in Italia, lo può twittare solo chi è arrivato stamattina con l'astronave del pianeta delle scimmie insieme a te. Oh signori, mi saluto ancora da verso casa, ci aggiorniamo. Ciao cari, ciao a tutti. Sendele? Sendele. 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 Sendele, non avevo un buon match. Sendele. And Sudden death asusage. Ma anche il數�'. Screina 계속 zooming in. MISTER SAKURAI Wow, is that two wins? Six wins for MISTER SAKURAI He's got skills. He's played before. Injustice Grazie a tutti. 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 Ci vediamo domenica per la puntata di inclusione e commenti. Grazie a Matteo, grazie a tutti che ci hanno seguito. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.